Un sit-in di solidarietà verso il popolo kurdo, da secoli perseguitato da imperi e stati, che ora rischia di subire un vero e proprio genocidio ad opera dell'ISIS, il califato islamico di matrice sunnita, che sta travolgendo tutto e tutti al confine tra Iraq, Siria, Iran e Turchia. L'ho organizzato a Nuoro il movimento a manca prossima indipendenza. I militanti si sono ritrovati in piazza Vittorio Emanuele per segnalare all'opinione pubblica nuorese la tragedia di un popolo di 22 milioni di persone che vive diviso dai confini di cinque stati. Da mesi gli estremisti islamici dell'ISIS, un movimento che secondo a manca è stato aiutato sia dagli stati del Golfo Persico che dalle potenze occidentali, sta massacrando i kurdi e gli isciti. Il movimento indipendentista chiede che la comunità internazionale intervenga e aiuti il popolo kurdo a difendersi e il partito comunista kurdo, il PKK, venga tolto dalla lista dei gruppi terroristici, visto che sta combattendo per la sopravvivenza del proprio popolo. Il simbolo di questa lotta disperata è la città di Kobane, al confine con la Turchia, sotto assedio e sul punto di cadere. Il rischio è quello di un massacro simile a quello di Sevrenica in Bosnia. Allora la comunità internazionale si girò dall'altra parte, salvo poi fare anni dopo il mea culpa. Serve un intervento deciso dalle forze militari della coalizione per scongiurare un massacro annunciato. Gli stati occidentali devono superare il doppio gioco della Turchia, che in questi anni si è distinta per la repressione dell'indipendentismo kurdo e che da giorni non muove un dito per salvare la popolazione civile dall'anniantamento. L'Italia, dopo l'annuncio dell'accessione di armi leggere ai kurdi, si è fermata. Il governo Renzi deve uscire dall'ambiguità e chiederà alla NATO di intervenire in maniera decisa per evitare un genocidio così come è stato fatto in Afghanistan. Altrimenti la popolazione di Kobane seguirà un destino toccato ad altre città conquistate dall'Isis. Gli uomini di ogni età verranno passati per le armi, le donne e anche le bambine verranno ridotte a schiave sessuali per i miliziani. Di fronte ai massacri del califato si sta registrando il totale disinteresse dei partiti e dei movimenti italiani. Centrodestra e centrosinistra in Italia e in Sardegna, presi da beghe e lotte di potere, in consiglio regionale e in Parlamento, stanno chiudendo gli occhi di fronte ad un genocidio di cui un giorno la storia ci chiederà conto.